Ciao a tutti da Mondo Immobiliare, oggi ci troviamo a Frigole, una manciata di passi dal mare. Vi voglio presentare questa soluzione indipendente che come potete vedere ha un ampio giardino. Adesso seguitemi per andarla a vedere nel dettaglio. Bene siamo all'interno di questa graziosa abitazione, quindi ci troviamo nel soggiorno che ha una cucina molto comoda e ampia e da questo lato c'è un meraviglioso camino che riscalderà le vostre giornate. Alle mie spalle abbiamo un corridoio che poi disimpegna verso la zona notte, composta da due camere da letto, un bagno e una lavanderia. Completano questa interessante proprietà un impianto fotovoltaico sicuramente molto utile di questi tempi. Non resta che chiamarci, siamo a Mondo Immobiliare. Al prossimo episodio